Salvate il risparmio. Abbiamo abbattuto il prezzo di molti prodotti a marchio Coop per tutelare il risparmio ancora una volta, come sempre. Volete salvare il risparmio? Venite alla Coop. Abbiamo abbattuto il prezzo di molti prodotti a marchio per tutelare il vostro risparmio ancora una volta, come sempre. Il detersivo Coop non rispetta solo il colore dei tessuti. Prodotti a marchio Coop. Realizzati senza discriminazioni né sfruttamento del lavoro. Coop blocca i prezzi dei prodotti a marchio. In più ribassa quelli di uso quotidiano. Perché? Perché Coop vuol dire convenienza fin dal 1854. Volete evitare sorprese? Scegliete i prodotti a marchio Coop. Per garantirvi il massimo della qualità, selezioniamo accuratamente i nostri fornitori. Prodotti Coop. Li trovate dentro la Coop e ci trovate la Coop dentro.